Tu scendierai le stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta, credo al cielo. E vieni in una grotta, credo al cielo, o bambino mio, divino, io ti vedo qui a cremar. O Dio, vieni in una grotta, credo al cielo, o bambino mio, divino, io ti vedo qui a cremar. Ma quando dico so, la presa va, no. Oggi siamo qui per inaugurare un presepe. Devo dire che siamo molto orgogliosi perché ci è stato donato da un'associazione di Napoli, l'associazione Sevilli di Napoli Onlus, il suo presidente Giuseppe Serroni, e sono da anni impegnati a tramandare questa tradizione presepiale, quindi noi siamo molto onorati di ospitare un presepe qui, in questo luogo per noi molto importante, come la piazza del Campidoglio. Siamo anche interessati a vedere questa nuova collocazione. Tra l'altro la natività che ci hanno donato rimanda a un concetto di grande importanza, sicuramente nella tradizione, e credo che sia arrivato il momento di scoprire questo presepe. Un ringraziamento è d'obbligo anche ad Acea e alle protezioni civili che hanno allestito il presepe. Grazie a tutti. Grazie a tutti.